Grazie a tutti. Questa è? Arrechini? Arrechini. Poliretanico, monocomponente. Si, Arrechini poliretanico monocomponente. Gira un po' il baratto. Come si chiama? Povercap. 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 Non lo so, io sono sempre per le vernici all'acqua. Sono sempre per le vernici all'acqua. Si, però, il poliretanico è un po' più... Senti, senti un po' più... No, sento... Senti quell'altro, è più forte, senti. Povercap. Si, ma... No, non voglio dire. Però... Per me è una questione proprio di... Povercap. 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 Povercapota. All'acqua. Va beh ma... Poliretanico O? Eh... All'acqua. Come c'è il possibilità l'acqua. Catalizzato... No, no... Non credo che possa essere segnata come ecologica... Ah... ...cill'ha qui lo scanner... Ho anche lo scanner? Ah, ora lo scannero si. Questa vedi è segnata come HCCP però.. Eh dovrebbe essere per il... Aspetta un po', vedete? Dovrebbe essere con... con basso wok e con... adatta per gli ospedali. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda.